E' definitivamente sfumata la trattativa tra la Rega Calcio SL e ISN Virtual Worlds per il campionato di calcio italiano su Second Life. Fallito anche quest'ultimo disperato tentativo di mediazione, si vocifera a causa di questioni di marchi, le due società proseguiranno su strade così differenti nell'organizzazione dei propri tornei. Si comincerà il 10 gennaio 2008 su ISN, giorno in cui avrà inizio la prima edizione della Coppa Team. Più o meno in concomitanza con il campionato di Serie A organizzato dalla Lega. Dal canto suo, il team che raggruppa 16 società sportive del metaverso si dice pronta a partire fin da subito. Tuttavia l'icombenza delle festività natalizie e le necessità di reperire uno spostor di peso hanno imposto una proroga sino alle primissime settimane dell'anno nuovo. Ma quali saranno le differenze tra le due competizioni calcistiche? Lo abbiamo chiesto al numero uno della Lega, Max 83 Sosa. Sei mesi di lavoro in questo campo fanno già una differenza importante. Noi faremo un campionato con un sistema rinnovato, un regolamento solido. Per quanto mi riguarda rappresentiamo il sistema calcio. La Coppa Team è soltanto una cometa di passaggio. Noi vogliamo fare qualcosa che duri nel tempo e che abbia un seguito. Per Zlubnews, siamo vecchi.